Grazie Presidente, molto brevemente per sottolineare la bontà della deliberazione in esame e per volersi sottolineare la differenza tra le precedenti e le attuali amministrazioni, soprattutto per quanto riguarda questo tema molto sensibile. Infatti si sta procedendo all'abbattimento di questo manufatto abusivo e con le conseguenti impegni di spese economiche, andando un po' in controtendenza rispetto a quella che è stata la storia di Roma, che se può scegliere, manifestare interesse pubblico e quindi salvaguardare le strutture abusive, ovvero procedere nel senso di abbatterle anche in danno e quindi con un conseguente impegno di risorse economiche, procedere nella seconda direzione, dando in un certo modo un po' di distacco, di differente punto di vista su questa tematica rispetto alle precedenti amministrazioni. Grazie Presidente.